ciao a tutti i bambini oggi vi voglio parlare dell'importanza di fare attività fisica sia in casa che all'aperto vedremo insieme attraverso una bellissima piramide tutti i gradi di importanza delle varie attività che possiamo svolgere che sia il gioco un aiutino in casa o addirittura stare anche al computer alla base della nostra piramide troviamo tutte attività che richiedono un'azione motoria come andare in bici a piedi passeggiare salire le scale e riordinare i giochi a seguire 45 volte alla settimana aiutiamo i nostri genitori in semplici lavori domestici e poi giochiamo con i nostri amici e i nostri coetanei durante la settimana sarebbe consigliabile praticare qualche sport qualche attività motoria organizzata quando è possibile cerchiamo una volta alla settimana di fare una gita fuori porta o comunque delle attività all'aperto infine solo un'ora al giorno dovremo dedicarla all'uso del computer e dei giochi elettronici adesso provate anche voi a disegnare la vostra piramide potete fare due diverse tipologie di piramidi una per descrivere la vostra giornata e un'altra per descrivere la vostra settimana prestate attenzione al tempo che dedicate alle azioni che volete registrare e poi confrontatela con la piramide più salutare che vi ho mandato il confronto vi aiuterà a regolare la vostra attività fisica settimanale o addirittura ad aggiungere attività nuove che non avete mai fatto mi raccomando provateci buon divertimento e fatemi sapere come è andata ciao